sì rieccomi qui con un nuovo video mi vedete vestito uguale, stessa postazione stessa tosse che non mi abbandona quindi abbiate pietà se mi sentite tossire durante il video, però credetemi che è fastidiosissimo sto cercando di farmela passare in tutti i modi sciroppi e quelle caramelline che non lo so farmaceutiche comunque non ci può niente è quasi una settimana che ci ho stato sempre stifera e quindi dato che ho già fatto il video poco fa sulla xax ce la posso fare, mini 8 ho detto giro anche l'altro così mi porto un po' avanti il lavoro non so se li vedrete uno dietro l'altro questi video o li vedrete a distanza di giorni penso a distanza di giorni così almeno riempio un pochettino gli spazi che lascio vuoti con le mie essenze ok non mi ricordo cosa stavo per dire però facciamo finta di niente andiamo avanti il video è un altro video di acquisti un acquisto particolare bramato desiderato e alla fine ottenuto perché purtroppo una delle mie fissazioni è la apple prima o poi spero di avere un portatile anche apple che avevo ma ho venduto perché non era il modello diciamo che all'epoca volevo io quella è un'altra storia quindi acquisto apple l'avete letto dal titolo del video parliamo dell'apple watch finalmente l'ho preso l'ho già testato perché ce l'ho da quasi due mesi e quindi questo sarà un video introduttivo nel senso vi farò vedere il prodotto l'oggetto se vi interessa me lo dite per favore scrivetemelo che vi farò altri due video uno dove vi mostro le funzioni dell'orologio cerco di non tossire e l'altro invece dove vi consiglio delle applicazioni determinati trucchetti e cose varie quindi scrivete qua sotto il tutto e io vi risponderò e vi accontenterò quanto prima allora il mega guardate quanto è enorme questa è la mia faccia guardate quant'è cioè va oltre il video è gigantesca la scatola dell'elto watch un po' triste perché c'è soltanto qui impresso watch vabbè qua dietro ci hanno fatto la stampa con il modello e i millimetri del mio orologio e la colorazione per il resto è bianca che d'averica a parte dietro che non vi mostro una questione di privacy ci sono il numero seriale dell'orologio e quant'altro non ce l'ho fatta a trattenarmi aprendo la scatola troviamo un altro astuccio che ora prenderemo metto via un secondino lo scatolone e questo è l'astuccio vero e proprio dove appunto mi si vede la mia immagine dove appunto viene dove troverete all'interno l'orologio aprendolo in questo caso ho inserito il cinturino originale con il quale l'ho acquistato questo color bianco antico perché l'ho cambiato poi successivamente quindi quello originale l'ho riposto qui dentro e quindi qui praticamente trovate appunto il cinturino con l'orologio continuando all'interno della scatola troverete il manuale di istruzioni la pressa da muro e il caricabatterie che è praticamente fatto così è volato la pressa da muro ha la forma rotonda ed è calamitato praticamente viene appoggiato ora ve lo mostro sotto l'orologio e va in carica logicamente ora vi mostro l'interno del libretto delle istruzioni perché praticamente allora innanzitutto il mio orologio è un 38 mm nella colorazione gold l'ho preso gold sia per una questione di gusto personale che perché comunque il mio telefono è gold quindi volevo abbinarlo al al mio telefono avrei voluto un cinturino nero c'era questo qui che è bianco sporco bianco antico praticamente non perché non mi piacesse ma perché il bianco tendenzialmente si sporca quindi immaginate un orologio bianco ancora di più però non l'ho trovato stavo optando per il modello quello da 42 l'ho provato aveva il cinturino blu a parte che il cinturino blu era troppo palese da uomo non lo so mi dava sensazione di maschile veramente mi dava fastidio al polso il cinturino da 42 mm non che la differenza perché quello mio è da 38 e quello è da 42 la grandezza sia infinita però si sentiva mentre quello che ho scelto io alla fine no il prezzo dell'apple watch da 38 mm modello sport che è il mio costa 419 o 20 comunque parenti di 20 420 euro e all'interno trovate anche un altro pezzo di cinturino della misura ml e questo perché se viene piccolino la misura che appunto hanno dato è possibile rimuoverla e mettere il pezzo più lungo ora passiamo al pezzo più importante quindi l'orologio così ve lo mostro ricompongo i pezzi altrimenti li perdo e sono cavoli amari stamattina mi è arrivato il porta apple watch che ho ordinato da questo l'ho preso da ebay ma lo trovate anche su amazon pagato una stupidaggine perché l'ho pagato meno di 3 euro ed è fatto così qua praticamente c'è dove mettere anche un portachiavi o qualcosa per tenerlo attaccato si apre è è un amore è davvero un amore qui c'è anche la retina per mettere carica batterie ok però essendo magnetico mi infastidisce un pochino magari si possono appiccicare vi dicevo poco fa il carica batteria questo qui è l'orologio il carica batteria magnetico praticamente si poggia qui vedete e rimane incollato e poi si rimuove a fine ricarica ora non vi sto a mostrare l'orologio accendendo perché appunto spero che il prodotto possa interessarvi quindi vi farò una recensione a parte però ve lo mostro assolutamente il cinturino che voi vedete l'ho acquistato a parte e l'ho montato io devo dire che la qualità è ottima ne avevo acquistato anche un altro nero ma la qualità faceva pena 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 sembrava proprio un pezzo di carta basta che mi muoveva il polso rischiavo pure di perdere l'orologio quindi via e l'orologio in questione è questo qui praticamente ho messo sulla cover non ho messo la pellicola protettiva perché quella in vetro mi fa lo spessore e mi dà fastidio quindi basta anche solo la cover la colorazione come vedete è oro posso fare troppa contro la luce ok forse così lo capite e appunto il cinturino è questo cioè il cinturino l'orologio è questo ve lo mostro indossato io in casa lo tengo poco nel senso che comunque toccando l'acqua facendo varie cose in casa preferisco non bagnarlo anche se dicono che ho sedito di persone ci hanno pure fatto il bagno a mare non volendo nel senso che sono solo dimenticati addosso e non è successo niente ma con quello che l'ho pagato preferisco non correre rischi perché comunque sono batoste e quindi non lo bagno manco se lavo i piatti quindi figuriamoci se ci vado a mare o faccio doccia e quant'altro e mi trovo davvero benissimo vi dico solo questo e quindi nulla ragazze anche questo acquisto ve l'ho mostrato fatemi sapere se voi lo avete come vi trovate e nulla ragazze continuate a seguirmi a proposito stoppatemi un secondo non per la tosse volevo darmi un'informazione che ho aperto su telegram un un gruppo dove appunto se voi volete seguirmi il mondo di luna sempre mi potete trovare e e lì praticamente avrete tutte le news principali che a volte magari non dico nemmeno nei miei social e le potete leggere direttamente da lì questo per potermi seguire essere sempre informate su quello che sto per caricare quello che ho comprato le recensioni che voglio fare varie cose inoltre presto ci sarà ci sarà anche una novità per tutte le amanti dei planner dei delle agende dei divisori di tutte queste cose qua quindi se volete vi lascio il link nel link nel link box se ce lo posso farmi io sono arrivata nell'info box con appunto il link per telegram telegram è un'applicazione similissima se non quasi uguale anzi migliore secondo me a whatsapp quindi basta che andate sul vostro app in questo caso per me apple sia per apple che per android dove voi scaricate le applicazioni e cercate telegram da lì appunto poi nella barra di ricerca inserite il link o il nome il mondo di luna dovrebbe spuntarvi subito fuori nulla ragazze ora vi lascio davvero vi mando al prossimo video un bacione ciao